Salve a tutti! Salve a tutti e grazie di trovarvi su Truth TV News. Oggi desidero parlare con voi della pubblicazione che ha fatto Neil deGrasse Tyson e che riguarda la figura della sua occupazione. Si chiama StarTalk, parliamo di stelle. L'altra notte è arrivato e nel suo spettacolo ha parlato di, fondamentalmente ha parlato di come l'universo non ha senso. E allora mi sono detto, bene, andiamo avanti e parliamo di questo. Non vuole parlare solo di alcune cose, ma qui ha detto che l'universo è una specie di amico-nemico per lui. Questo è quello che ha detto. Ma in realtà è tutta una frode. Si tratta solo di una frode perché quello a cui si riferisce è l'idea che richiede una massa per creare gravità. E quello che ha detto, dalle sue proprie spiegazioni, è che c'è un enorme universo che manca. Approssimativamente l'85% dell'universo non si trova. Il che significa che è impossibile per tutte queste stelle e per tutti i presunti pianeti che possano esistere là fuori senza che possa esserci massa sufficiente in grado di produrre la trazione gravitazionale. Ovvero quello che hanno teorizzato nel corso degli anni che sia possibile accada. In altre parole non sanno perché l'universo si rapprende insieme. Non sanno che cosa tiene i corpi celesti lassù nel cielo. E voglio dire questo. Questa è solo un'immagine grafica realizzata col computer. Non è una fotografia dell'universo, ovviamente. Ma quello che hanno fatto è che hanno tenuto nascosto qualcosa. La comunità scientifica ha qualcosa che tiene nascosto su questa intera menzogna della gravità. E la gravità è la forza che, secondo quello che dicono, la gravità è la forza che tiene tutte le cose insieme. Tiene l'universo insieme. È stata la forza che ha creato l'universo. Ma ancora una volta la gravità è anche quella forza che ci tiene sul pianeta, dove presumibilmente ci troviamo su una palla. e le persone in basso, al di sotto della Terra, sono tenute dalla gravità e le persone sopra la Terra sono mantenute dalla stessa forza gravitazionale. Non ha importanza, se lo sapete o meno, perché semplicemente non ha senso. Se qualcuno è sotto nella parte inferiore della Terra e la gravità lo tira verso essa, questo significa che la Terra in realtà bilancia il tipo di gravità necessaria per tirare la persona verso la Terra. In altre parole, se mi trovo sopra la Terra, richiede meno gravità tenermi verso la parte sopra della Terra rispetto a quello che richiede per me sotto alla Terra, dove potrei cadere in su o in giù. Pertanto richiede enorme gravità nella parte bassa della sfera. La sfera per tenere la persona sulla Terra rispetto a quella sulla parte superiore della Terra, se questo non ha un certo senso per voi. Un modo per vederlo è prendere una palla da basketball. Semplicemente prendete una palla da basketball e mettete sopra, ad esempio, uno stuzzicadenti. E vedete se richiede molta gravità tenere lo stuzzicadenti in posizione sulla parte superiore della palla da basketball. Vedete ovviamente che non ne richiede molta, rimane là in modo naturale. Ma se prendete lo stesso stuzzicadenti e lo mettete nella parte sotto della palla da basketball, la gravità deve aumentare per tenere lo stuzzicadenti come un magnete alla palla. E questo è quello che suppongo debba succedere nel nostro mondo sferico, dove le persone in Australia hanno una maggiore gravità da applicare alle suole dei loro piedi rispetto a noi qui nell'America del Nord. Quindi, sapete, questa è ancora un'ulteriore spiegazione che sembra un indovinello per tutti coloro che cercano di dare delle spiegazioni, ma ovviamente la gravità è qualcosa di cui parlano qui. Qui ce lo spiegano. Neil deGrasse Tyson, in persona, qui dice che al momento, se guardiamo l'universo, non ha alcun senso, perché non c'è... I corpi celesti sono così distanti, così sparsi, che la forza gravitazionale dovrebbe impiegare anni luce attraverso l'estensione dell'universo per far sì che supporti continuamente la teoria della gravità. Nonostante questo, devono sbarazzarsi della teoria della gravità, perché non funziona nell'universo. Pertanto, quello che hanno creato per compensare la teoria della gravità è che hanno creato questa idea, perlomeno per supportare la teoria della gravità, hanno creato questa idea della materia oscura. E la materia oscura è una sostanza che non si può vedere, ma che in realtà tiene insieme l'universo. È una cosa misteriosa. Simile a quella di Star Wars, sapete. Comunque, voglio farvi ascoltare quello che ha da dire. Spero che non stia scherzando. Voglio farvi vedere un piccolo pezzo e sentiamo quello che ha da dire, come ce lo spiega Neil deGrasse Tyson, il quale ci informa che questo è un problema per loro, per gli astrofisici. Bene, sentiamo che cosa ha da dire. Abbiamo tutte queste stelle, le galassie, i pianeti, le comete, i buchi neri, le nuvole nere, tutto quanto là fuori che possiamo vedere, toccare, usare, assaggiare. Non ha alcun senso per fornirci la gravità che vediamo operare in questo universo. In realtà possiamo chiamarla la forza oscura. Non sappiamo se è fatto di materia oscura. Potrebbe essere un nome sbagliato che incanala le persone in direzioni sbagliate che magari non sono vere. Bene. Ok, dalla sua bocca. Ha detto che, con le sue stesse parole, che non sanno cos'è la gravità e che non sono in grado di sostenere veramente, anzi, che spesso ci arrivano delle illusioni deludenti che in realtà non hanno alcun senso. Non ha alcun senso che l'universo stia tenuto insieme da una forza invisibile che non si può vedere. Quindi, bene, vediamo se sono in grado di farvi arrivare a farvi vedere questo. Desidero diate un'occhiata agli ebrei qui. In Ebrei, capitolo 1, versetto 3, nella versione King James, Egli, che è lo splendore della sua gloria e l'impronta della sua essenza, sta parlando di Gesù, che sostiene tutte le cose con la potenza della sua parola. Questo è quello che fa Dio attraverso Gesù Cristo. Gesù Cristo tiene insieme tutte le cose con la potenza della sua parola e, in realtà, è quello di cui fondamentalmente abbiamo bisogno. Sapete, dovete sapere che l'universo è tenuto insieme da una forza invisibile e questa forza invisibile è Dio. E una volta che arriviamo a questa conclusione, allora potremo fermarci dal continuare con queste illusioni parneticanti. Sapete del tutto quanto costruiscono questi scienziati. Non so, lasciatemi sapere che ne pensate. Mettete like, iscrivetevi o meno, ma ricordate fino alla prossima volta che Gesù è la luce del mondo e che la verità vi renderà liberi. non so, lasciatemi sapere